Ciao a tutti, ben ritrovati! Siete pronti per un nuovo gioco di movimento? Oggi vi presento un gioco che è molto famoso e ogni volta che lo propongo i bambini si divertono tantissimo. È un gioco dove imitiamo la pasta, lo gnocco, gli spaghetti, i fusilli e mentre imitiamo questi tipi di pasta canticchiamo insieme a una canzolcina. Possiamo fare questo gioco stanno in cerchio, un bambino alla volta va al centro del cerchio, tutti cantiamo e facciamo i movimenti e poi il bambino si scambierà di posto con un altro sul finire della filastrocca. Cominciamo imitando ad esempio un ognocco, gambe aperte, girotti a piegate, braccia rotonde e cantiamo insieme. Io che sono un ognocco mi muovo un po' di qua, mi muovo un po' di là, sono tutto ben condito con un po' po' di sale, con un po' po' di pepe. Mi vuoi mangiare tu? Mi vuoi mangiare tu? E qui avviene lo scambio. Oppure possiamo imitare lo spaghetto, quindi la forma lunga. Ci allunghiamo con le braccia verso l'alto, solleviamo i talloni. Io che sono uno spaghetto mi muovo un po' di qua, mi muovo un po' di là, sono tutto ben condito con un po' po' di sal, con un po' po' di pepe. Mi vuoi mangiare tu? Mi vuoi mangiare tu? Ancora, possiamo imitare i fusili a coppie. E quindi i bambini si posizionano a coppie e anche al centro ci sarà una coppia. E imiteremo la forma del fusilo, avvolgendoci attorno al corpo del compagno. E quindi gireremo da un lato e dall'altro il sale e il pepe. Come sempre, spazio alla fantasia, possiamo aggiungere altri ingredienti e possiamo ovviamente imitare altri tipi di pasta. Se vi è piaciuto il video, schiacciate il mi piace, iscrivetevi al canale e come sempre, buon divertimento, a presto!